il figlio del re doveva sposarsi perciò si stavano preparando festeggiamenti grandiosi aveva atteso la sua sposa per un anno intero ed ecco che finalmente la sposa era arrivata era una principessa russa ed era venuta sin dalla Finlandia in una slitta trainata da sei renne la slitta era stata costruita in forma di grande cigno dorato e tra le ali del cigno avevano adagiata la piccola principessa in persona il lungo mantello di armellino le giungeva sino ai piedi e sul capo le avevano posata una minuscola calotta in tessuto d'argento ed ella era pallida come il palazzo di neve nel quale era sino ad allora vissuta tanto pallida era che quando passò per le strade il popolo si stupì è come una rosa bianca gridò la gente e le buttarono fiori dai balconi sulla soglia del castello il principe l'attendeva per riceverla aveva sognanti occhi di viola e i suoi capelli parevano oro fino come vide la principessa si piegò su un ginocchio e le baciò la mano il tuo ritratto era bello mormorò ma tu sei ancora più bella del tuo ritratto e la principessa arrossì prima era come una rosa bianca disse un giovane paggio al suo vicino ma adesso è come una rosa rossa e tutta la corte andò in vicibilio per tre giorni tutti quanti andarono in giro ripetendo rosa bianca rosa rossa rossa rosa bianca e il re diede ordine che lo stipendio del paggio venisse raddoppiato poiché il paggio non riceveva stipendio di sorta la cosa non gli fu di grande utilità ma questo fu considerato non di meno un grande onore e l'annuncio fu debitamente pubblicato nella gazzetta di corte allo scadere dei tre giorni vennero celebrate le nozze e la sposa e lo sposo avanzarono tenendosi per mano sotto un baldacchino di velluto purpureo ricamato a perline seguì quindi un banchetto di stato che durò cinque ore il principe e la principessa sedettero nel punto più elevato della grande sala e bevero da una coppa di limpido cristallo soltanto gli innamorati fedeli potevano bere da quella coppa poiché se fanse labbra la toccavano essa diveniva grigia e opaca e torbida è chiarissimo che si vogliono bene disse il piccolo paggio è chiaro come il cristallo ma il re diede ordine di raddoppiati un'altra volta lo stipendio che onore esclamarono tutti i cortigiani dopo il banchetto doveva esservi un ballo la sposa e lo sposo dovevano danzare insieme la danza della rosa e il re aveva promesso che per l'occasione avrebbe suonato il flauto suonava malissimo ma nessuno aveva mai osato dirglielo perché era il re per la verità conosceva soltanto due arie ma non sapeva mai con certezza quale delle due suonasse questo però non aveva importanza poiché qualunque cosa facesse tutti gridavano a gran voce delizioso, delizioso l'ultimo numero del programma sarebbe consistito in una grande festa di fuochi artificiali che avrebbe avuto inizio a mezzanotte la piccola principessa non aveva mai veduto una festa pirotecnica in vita sua perciò il re aveva dato ordine che il pirotecnico di corte restasse di servizio il giorno delle nozze come sono i fuochi artificiali? aveva domandato la principessina e il principe il mattino mentre passeggiavano insieme sulla terrazza assomigliano all'aurora boreale aveva risposto il re il quale rispondeva sempre alle domande che venivano rivolte agli altri solo molto più naturali personalmente li preferisco alle stelle perché si sa sempre quando stanno per comparire e sono magnifici proprio come la mia arte nel suonare il flauto bisogna assolutamente che tu li veda così in fondo al giardino del re era stata eretta una grande tribuna e non appena il pirotecnico di corte ebbe messo ogni cosa a suo posto i fuochi d'artifizio incominciarono a discorrere tra loro certo il mondo è una gran bella cosa esclamò un minuscolo petardo guardate quei tulipani gialli vi prego perbacco se fossero dei veri mortaretti non potrebbero essere più graziosi sono felice di aver potuto viaggiare i viaggi ti maturano il cervello in modo fantastico e ti liberano da tanti pregiudizi il giardino del re non è mica il mondo piccolo petardo idiota intorno qui una grossa candela romana il mondo è un luogo immenso e ti occorrerebbero tre giorni per poterlo vedere tutto ogni luogo amato è un mondo per noi esclamò una pensosa girandola che in gioventù si era innamorata di un vecchio scatolone di legno grezzo e andava orgogliosa del proprio cuore infranto ma oggi l'amore non è più di moda i poeti lo hanno ucciso hanno scritto tanto intorno all'amore che ormai nessuno li crede più e non ne sono affatto sorpresa perché il vero amore soffre e tace ma ricordo che io stessa una volta ma non importa ora il sentimento è un ricordo del passato sciocchezze ribatte la candela romana il sentimento non muore mai è come la luna vive in eterno la sposa e lo sposo per esempio si amano teneramente ho preso tutto sul loro conto stamane da una cartuccia di carta bruna che per combinazione si trovava nello stesso cassetto con me ed era al corrente delle ultime notizie di corte ma la girandola scosse il capo il sentimento è morto il sentimento è morto mormorò era di quelle persone le quali credono che seguitando a ripetere le stesse cose un sacco di volte queste alla fine si avverano a un tratto si intese un colpo di tosse secco e brusco e tutti quanti si girarono era un razzo allampanato di aspetto altezzoso che avevano legato all'estremità di un lungo bastone aveva l'abitudine di tossire sempre prima di parlare onde a tirare l'attenzione degli interlocutori disse e tutti stettero in ascolto ad eccezione della povera girandola che ancora scuoteva la testa e mormorava il sentimento è morto ordine ordine gli dà forte un mortaretto possedeva un certo temperamento politico e aveva sempre avuto una parte di primo piano nelle elezioni locali perciò sapeva come usare appropriatamente le varie espressioni parlamentari non appena si stabilì un silenzio assoluto il razzo tossì per la terza volta quindi incominciò parlava con estrema lentezza e con voce spiccata come se dettasse le sue memorie sempre guardando al di sopra della spalla di colui col quale stava parlando aveva insomma dei modi molto distinti che fortuna per il figlio del re osservò che si sia sposato proprio nel giorno in cui spareranno me davvero se ciò non fosse stato preordinato in anticipo la cosa non sarebbe potuta andare meglio per lui ma i principi sono sempre fortunati oh santo cielo esclamò il piccolo petardo io credevo che fosse esattamente il contrario che cioè non ci sparassero in onore del principe può darsi che per te sia così replicò il razzo anzi sarà appunto così non ne dubito ma per me è diverso io sono un razzo molto distinto e provengo da una famiglia distintissima mia madre è stata la più famosa girandola del suo tempo ed era celebre per il suo modo graziosissimo di danzare quando fece la sua grandiosa comparsa in pubblico girò su se stessa diciannove volte prima di estinguersi e a ogni giravolta gettava in aria sette stelle rosa aveva tre piedi e mezzo di diametro ed era stata fabbricata con la miglior polvere da sparo mio padre era un razzo come me di origine francese volò tanto alto che la gente ebbe paura non dovesse tornare mai più sulla terra ma ritornò invece poiché aveva un carattere bonario ed esegui anzi una discesa brillantissima in un vero scloscio di pioggia d'oro i giornali parlarono della sua maestria in termini molto lusinghieri e anzi la gazzetta di corte definì mio padre addirittura un trionfo dell'arte pilotecnica pilotecnica? pilotecnica vuoi dire? lo corresse un fuoco del Bengala sono sicuro che si dice pilotecnica perché l'ho visto scritto su una mia scatola di latta beh io dico pilotecnica arriva a terrazzo con voce imperiosa tanto che il fuoco del Bengala ne fu così avvidito che prese subito a maltrattare i piccoli petardi giusto per dimostrare che era ancora un personaggio di una certa importanza stavo dicendo riprese il razzo stavo dicendo che cosa stavo dicendo? stavi parlando di te? gli rispose la candela romana ah già sapevo che stavo discutendo di un argomento importante quando sono stato così poco educatamente interrotto a me la mancanza di educazione e le cattive maniere dispiacciono enormemente poiché sono straordinariamente sensibile non esiste nessuno al mondo più sensibile di me di questo sono sicurissimo che cosa significa essere sensibili? domandò il mortaretto alla candela romana significa una persona la quale per il fatto che ha i calli lei pesta sempre i piedi al prossimo rispose la candela romana bisbigliando in un soffio e il mortaretto quasi esplose del ridere si può sapere perché ridi? gli domandò il razzo io non rido mica rido perché sono contento rispose il mortaretto è un motivo molto egoistico disse il razzo in tono collerico che diritto hai tu di essere felice? dovresti pensare agli altri piuttosto anzi dovresti addirittura pensare a me io penso sempre a me e mi augurerei che tutti gli altri facessero lo stesso questo è ciò che si chiama comprensione è una virtù bellissima che io possiedo in alto grado supponete per esempio che stanotte mi capiti qualcosa che disgrazia sarebbe per tutti i principi e la principessina non potrebbero essere mai più felici e la loro vita coniugale se ne andrebbe rovinata e in quanto il re so che non si riavrebbe mai da un colpo simile francamente se comincio a pensare seriamente all'importanza della mia posizione mi sento commosso fin quasi alle lacrime se vuoi procurar piacere al tuo prossimo lo ammanì la candela romana sarà meglio che tu ti conservi asciutto certo sgramò il fuoco del bengala che finalmente si era tirato su un pochino di umore certo questo si chiama parlare con buon senso già il buon senso il cosiddetto senso comune replicò il razzo sdegnato voi dimenticate che io sono tutto forché comune e molto distinto per giunta ma come chiunque può essere provvisto di senso pratico purché non abbia immaginazione io invece possiedo un'immaginazione grandissima poiché non penso mai alle cose quali realmente sono ne penso invece sempre come del tutto diverse dal vero in quanto a conservarmi asciutto non vi è evidentemente nessuno qui capace di apprezzare sia pure in minima parte la mia natura emotiva ma fortunatamente per me non me ne importa la sola cosa che sostiene un individuo nella vita è la consapevolezza dell'enorme inferiorità di tutti gli altri sentimento del resto che io ho sempre coltivato ma nessuno di voi ha cuore ecco che ridete e vi divertite come se il principe e la principessa non si fossero sposati proprio adesso beh francamente interloqui una piccola mongolfiera e perché non dovremmo stare allegri è un'occasione lieta e quando mi librerò nell'aria voglio parlarne alle stelle e dir loro quel che so in proposito vedrete come ammiccheranno quando gli parlerò della graziosa sposina dio mio che modo volgare di vedere la vita esclamò il razzo ma non mi stupisce dentro voi altri non c'è un bel nulla siete tutti quanti cavi e vuoti ma come forse il principe e la principessa andranno a vivere in un paese dove scorrerà un fiume impetuoso forse avranno un figliolo unico un piccolo bambino biondo dagli occhi di viole come il principe e forse chissà un giorno questo bambino andrà a passeggio con la sua nutrice forse la nutrice si addormenterà sotto una grande pianta di sambuco e probabilmente il bambino cadrà nel fiume profondo e vi annegherà dio che disgrazia terribile povera gente perdere il loro unico figliuolo è veramente una cosa troppo atroce io non me ne potrò mai consolare ma mica hanno perduto il loro unico figliuolo obbietò la candela romana non gli è successa assolutamente nessuna disgrazia non ho mai detto che gli sia successa ribatte il razzo ho detto soltanto che poteva darsi che gli succedesse se avessero effettivamente perduto il loro unico figliuolo sarebbe inutile continuare a parlare dell'argomento non posso soffrire la gente che recrimina sul passato ma se invece penso che potrebbero perdere il loro unico figlio la cosa mi tocca profondamente quello che è certo è che tu sei tocco disse il fuoco del bengala anzi a dire la verità sei la persona più tocca che io abbia mai conosciuta e tu sei la persona più villana che io abbia mai conosciuta ribatte il razzo e non puoi sicuramente capire la mia amicizia nei confronti del principe ma se non lo conosci nemmeno grugnì la candela romana non ho mai preteso di conoscerlo risposi il razzo e osa aggiungere che se lo conoscessi non mi dichiarerei affatto suo amico è sempre pericolosissimo conoscere i propri amici comunque sarà bene che tu ti tenga asciutto insistette la mongolfiera è questo che conta conterà per te non ne dubito ribatte il razzo ma io piangerò invece se mi fa comodo e scoppiò effettivamente in lacrime vere che ricorsero giù per il bastone simili a gocce di pioggia e per poco non annegarono due scaraffazzetti che stavano giusto pensando di metter su casa insieme e cercavano appunto un bel prosticino asciutto dove andare ad abitare deve proprio avere una natura romantica osservò la girandola perché piange quando non c'è assolutamente alcun motivo di piangere e trasse un profondo sospiro pensava sempre allo scatolone di legno grezzo ma la candela romana e il fuoco del bengale erano fuori di sé e non facevano che ripetere scempiazzini scempiazzini con quanto fiato avevano in gola erano due tipi estremamente pratici e ogni qual volta avevano a ridire su qualcosa si mettevano a strillare scempiazzini scempiazzini infine la luna si levò simile a uno splendido scudo d'argento e le stelle incominciarono a scintillare e dal palazzo giunse un suono di musica i principi e la principessa avevano aperto le danze danzavano con tanta grazia che gli alti gigli bianchi si sporsero verso la finestra ad osservarli e i grandi papaveri rossi si misero ad annuire con cenni del capo e a battere il tempo quindi suonarono le dieci poi le undici e infine le dodici e all'ultimo l'intocco della mezzanotte tutti quanti uscirono sulla terrazza e il re mandò a chiamare il pilotecnico di corte dai inizio ai fuochi artificiali disse il re e il pilotecnico di corte si inchinò sino a terra e si avviò verso l'estremità del giardino aveva con sé sei inservienti ciascuno dei quali reggeva una torcia accesa in cima a una lunga pertica fu veramente uno spettacolo stupendo sss sss partì la girandola roteando e volteggiando torno a torno bum bum esplose la candela romana poi i petardi si misero a ballare dappertutto e i fuochi del bengala diedero ad ogni cosa riflessi scarlatti addio gridò la mongolfiera librandosi in alto e lasciando cadere le minuscole scintille azzurrine bang bang risposero i mortaretti che si divertivano un mondo tutti ebbero un successo formidabile ad eccezione del distintissimo razzo era talmente bagnato fuori a dipiangere che non riuscì nemmeno a partire la cosa migliore sua era la polvere da sparo e questa era stata così inumidita dalle lacrime che era divenuta inservibile tutti i suoi parenti poveri ai quali non aveva mai rivolta la parola se non per schernirli sfrecciarono su nel cielo simili a meravigliosi fiori d'oro dai boccioli di fuoco evviva gridò la corte e la piccola principessa rise di piacere credo mi tengono in serbo per una qualche occasione specialissima pensò il razzo deve essere senz'altro così e si dette più arie che mai il giorno seguente gli operai vennero a mettere tutto quanto in ordine deve essere certamente una deputazione disse il razzo li riceverò con la dovuta dignità perciò arricciò il naso e presse ad aggrottare severamente la fronte come se stesse pensando a qualche argomento di grande importanza ma gli operai non si accorsero affatto di lui sino al momento in cui stavano per andarsene un tratto uno di loro lo vide eh esclamò guarda che porcheria di razzo e lo buttò al di sopra del muro dentro al fosso porcheria di razzo porcheria di razzo ormolò questo mentre frullava per l'aria impossibile signoria di razzo questo voleva dire porcheria e signoria suonano pressa poco lo stesso anzi spesso significano la stessa cosa e intanto precipitò nella mota non si sta molto comodi qui osservò ma certo deve essere una stazione climatica di moda e senza dubbio mi ci hanno mandato affinché mi rimetta in salute eh sì ho i nervi molto scossi e ho proprio bisogno di un po' di riposo in quella avanzò nuotando verso di lui una ranocchia con due occhi luminosi come gioielli e un verde mantello marezzato un nuovo arrivo a quanto pare disse la rana ma dopo tutto non c'è cosa migliore del fango datemi un clima piovoso e un fosso e io sono felice come una pasqua credi che questo pomeriggio farà umido lo spererei proprio ma sfortunatamente il cielo è tutto azzurro e senza nubi che peccato ah ah disse il razzo è incominciato a tossire lo sai che hai una voce stupenda esclamò la rana assomiglia proprio a un gracci dio e tutti sanno che il gracci dio è il suono più musicale della terra sentirà il nostro circolo dell'allegria stasera ci mettiamo sedute nel vecchio stagno delle anatre accanto alla casa del fattore e non appena spunta la luna attacchiamo è talmente trascinante che tutti restano svegli per ascoltarci infatti non più tardi di ieri ho inteso la moglie del fattore dire alla sua madre che non era riuscita a chiudere occhio in tutta la notte per causa nostra fa veramente piacere saper di godere tanta notorietà ripete il razzo con rabbia era seccatissimo perché non riusciva a piazzare una sola parola hai proprio una gran bella voce riprese la rana spero che verrai con noi allo stagno delle anatre ora me ne vado a dare un'occhiata alle mie figlie ho sei figliole che sono in amore e ho una gran paura che possono imbattersi nel luccio quello è un mostro fatto e finito e non esiterebbe un istante a papparsele come prima colazione beh arrivederci la tua conversazione mi è piaciuta un mondo te lo assicuro conversazione un accidente sbottò il razzo ma se non hai fatto che parlare tu tutto il tempo questo non si chiama conversazione e qualcuno deve pure ascoltare rispose la rana mentre a me piace solo parlare che risparmia un sacco di tempo e impedisce le discussioni ma a me piacciono le discussioni invece rispose il razzo mi auguro proprio di no replicò la rana con compiacenza le discussioni sono terribilmente volgari poiché nella buona società tutti la pensano allo stesso modo arrivederci una seconda volta vedo laggiù in fondo le mie figliuole e la ranocchia si allontanò nuotando rapidamente sei una persona molto irritante e molto maleducata riprese il razzo non posso soffrire la gente che non fa che parlare di sé come fai tu quando uno vuole parlare di sé come faccio io è quello che io chiamo egoismo mentre l'egoismo è un vizio odioso specialmente per un temperamento come il mio poiché tutti mi conoscono per la mia natura comprensiva a dire il vero tu dovresti anzi prendere esempio da me non potresti sceglierti un modello migliore e ora che ne hai l'occasione ti conviene approfittarne subito perché io farò ritorno a corte quasi immediatamente io sono un gran favorito a corte lo sai infatti i principi e la principessa si sono sposati ieri in mio onore naturalmente tu non puoi essere al corrente di queste cose provinciale come sei è inutile che continui a parlare disse una libellula che si era posata sulla cima di un alto giunco bruno è proprio inutile perché è andata via da un pezzo ma il danno è suo non mio replicò il razzo non smetterò certo di parlarle per il semplice fatto che quella non mi vada a me piace ascoltarmi parlare è uno dei miei piaceri più grandi spesso mi faccio delle lunghe conversazioni da solo e mi trovo talmente intelligente che a volte non riesco a capire una sola parola di quello che dico allora dovresti tenere delle conferenze di filosofia osservò la ribellula e allargando le due graziosissime ali trasparenti si librò nell'aria come è sciocca non restarsene qua con me disse il razzo sono sicuro che non le è capitato spesso di potersi istruire come in questa occasione comunque non me ne importa un fico un giorno o l'altro i geni come me saranno pure apprezzati e così dicendo affondò un altro poco nella mota dopo un certo tempo avanzò nuotando verso di lui un'anatra bianca aveva due gambe gialle due piedi palmati ed era ritenuta una gran bellezza per via del suo ancheggiare disse come sei fatto curioso mi è lecito chiederti se sei nato così oppure se quella tua forma buffa è dovuta a un accidente si vede chiaro che sei sempre vissuta in campagna ripricò il razzo altrimenti sapresti chi sono io comunque ti perdono la tua ignoranza sarebbe ingiusto pretendere che gli altri siano distinti quanto noi senza dubbio sarai sorpresa di sapere che so volare fino in cielo e ridiscendermene poi sotto forma di pioggia d'oro non è una prerogativa che mi faccia molto effetto disse l'anatra poiché non vedo di che utilità possa essere per chi che sia se invece tu fossi capace di arare i campi come il bue o di trascinare un carretto come il cavallo o di badare alle pecore come il cane da pastore questo sì che varrebbe qualcosa mia cara ragazza esgramò il razzo con tono di voce quanto mai altezzoso vedo che tu appartieni alle classi inferiori una persona della mia condizione non è mai utile noi possediamo alcune particolari doti e questo è più che sufficiente personalmente non nutro la minima simpatia per nessun genere di industria e meno che mai per le industrie che tu mi hai citate anzi sono sempre stato del parere che i lavori pesanti siano semplicemente il rifugio di coloro che non hanno assolutamente nulla da fare bene bene disse l'anatra che era di natura accomodante e non litigava mai con nessuno ciascuno ha i propri gusti spero comunque che ti deciderai ad eleggere il tuo domicilio costì oh no mia cara esclamò il razzo io qui sono soltanto un ospite di passaggio un ospite di molto riguardo il fatto è che trovo questo posto piuttosto noioso qui non esiste né compagnia né solitudine è in una parola tipicamente periferico probabilmente ritornerò a corte perché so che sono destinato a far sensazione nel mondo anch'io una volta avevo avuto l'intenzione di entrare a far parte della vita pubblica disse l'anatra ci sono tante cose che bisognerebbe riformare per dire la verità presi anzi la parola ad una riunione qualche tempo fa e approvammo alcuni progetti di legge che condannavano tutto ciò che non ci piaceva comunque non ebbero un grande effetto sembra adesso mi sono data alla vita casalinga e mi preoccupo esclusivamente della mia famiglia io invece sono nato per la vita pubblica disse il razzo e così sono anche i miei familiari anche il più umile dei miei parenti lo è ovunque facciamo la nostra comparsa creiamo subito una sensazione enorme personalmente io non mi sono ancora mostrato in pubblico ma quando questo accadrà sarà uno spettacolo indimenticabile in quanto alla vita casalinga fa invecchiare anzitempo e distrae la mente da occupazioni più elevate gli scopi superiori dell'esistenza come sono nobili esclamò l'anatra e a proposito ciò mi rammenta che ho una fame tremenda e si allontanò nuotando lungo la corrente dicendo qua 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 torna qua torna qua urlò il razzo ho ancora un sacco di cose da dirti ma l'anatra non gli badò sono contento che ce ne sia andata disse il razzo ha decisamente una mentalità piccolo borghese intanto affondò ancora un tantino nella mota e già incominciava a riflettere sull'isolamento del genio quando a un tratto arrivarono di corsa lungo la riva due ragazzini in camicotto bianco con una cuccuma e qualche fascina di legna questa deve essere una deputazione pensò il razzo e assunse un aspetto quanto mai dignitoso beh gridò uno dei ragazzini guarda quel racchio d'un bastone chissà come ha fatto ad arrivare sin qua e così dicendo raccattò il razzo dal fosso racchio e scrimò il razzo impossibile avrà voluto dire rocchio rocchio aurifero rocchio aurifero è molto complimentoso certamente deve avermi scambiato per uno dei dignitari di corte mettiamolo sul fuoco disse l'altro ragazzo ci aiuterà a far bollire la cuccuma così ammucchiarono le fascine l'una sull'altra e in cima ci misero il brazzo e accesero il fuoco magnifico gridò il razzo adesso mi spereranno in pieno giorno in modo che tutti potranno vedermi ora dormiremo un pochino dissero i ragazzi e quando ci sveglieremo la cuccuma bollirà e si stesero sull'erba e chiusero gli occhi il razzo era molto bagnato perciò non ci volle molto prima di bruciare alla fine però il fuoco gli si appigliò ecco adesso parto urlò e si tirò su tutto rigido e impettito lo so che andrò fin oltre le stelle molto più in là della luna molto più in là del sole andrò tanto alto che ed effettivamente sfrecciò dritto in aria meraviglioso gridò seguitero ad andare così per sempre sono un successo sensazionale veramente ma nessuno lo vide allora incominciò a provare su tutto il corpo una strana sensazione di solletico adesso sto per esplodere strillò incendierò l'universo intero e farò un tale fracasso che nessuno parlerà d'altro per tutto un anno ed effettivamente esplose bang 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 fece la polvere da sparo su questo non vi ha alcun dubbio ma nessuno lo intese nemmeno gli ragazzini poiché erano entrambi profondamente addormentati dopodiché tutto quel che rimace di lui fu il bastone il quale cadde sulla schiena di un'oca che stava facendo una passeggiatina in riva al fosso giusto cielo esclamò l'oca piovono anche bastoni adesso e si tuffò nell'acqua lo sapevo che avrei prodotta una sensazione fenomenale balbettò il razzo e si spense